Ed è veramente entusiasmante che sia stato organizzato questo momento di... Il partito comunista italiano marxista-leninista ha chiuso la campagna elettorale sull'isola d'Ischia con un comizio del capolista al Senato, Domenico Savio, tenutosi, nonostante le cattive condizioni meteorologiche, nel quartiere di Monterone a Forio. Al termine del suo intervento, Domenico Savio, che il 16 febbraio scorso ha compiuto 73 anni d'età, e festeggiato i suoi primi 60 anni di attività politica, è stato omaggiato dai militanti del PCML di una straordinaria torta con una scritta auguri rivoluzionari per i tuoi 60 anni di attività politica spesi a difendere i lavoratori e i desiderati della società. Grazie per il grande esempio di rettitudine morale che da sempre rappresenta in questo mondo di corrotti e corruttori. Una sorpresa che Savio non si aspettava e che ha molto apprezzato. Voglio ringraziare i compagni del mio partito, i lavoratori, i cittadini tutti che seguono e apprezzano il nostro lavoro ed è veramente entusiasmante che sia stato organizzato questo momento di festeggiamento per la mia persona qui pubblicamente e non altrove.